Ciao sono la dottoressa Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi, dei profilattici, o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso, a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. 144 preservativi Pamitex XL Blue Natural, 57 mm. Se i preservativi normali ti stringono troppo, il tuo preservativo extra extra large preferito diventerà il Pamitex XL Blue Natural. Un preservativo dalle misure extra e dalla vestibilità super comoda. Questo modello è caratterizzato da larghezza nominale di 57 mm e da una qualità di lattice superlativa. Come non definirlo un preservativo comodo? Provalo e goditela, alla grande. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace, a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato. Grazie.